23. Autocoscienza Quale posto occupano l'uomo e la donna sulla Terra? Commento L'uomo e la donna sono il punto massimo dell'evoluzione nella scala ascendente della vita cosmica. 24. Essi infatti da microcosmi possono calcolare il cammino dell'universo, conoscere i ritmi del macrocosmo, dominare i piani di vita preumani, minerale, vegetale e animale. 25. L'uomo e la donna hanno in sé tutto quello che sono i gradini che li precedono, con in più ciò che agli altri ancora manca, l'autocoscienza. 26. L'autocoscienza